Benedetta, stacci dei suggerimenti, per bere e mangiare bene? Sicuramente il mio Piemonte, che è quello del Monferrato, intorno a Ovada, dove vado da quando sono bambina, perché il Piemonte non sono solo le langhe. Un'altra regione italiana a cui sei molto legata, per la cucina soprattutto? Per la cucina dovrei dire tutta l'Italia, perché veramente non c'è una regione che non mi piaccia, però la Sardegna ho nel cuore, perché tutte le estati io trascorro le vacanze lì ed è una terra meravigliosa. Vino, preferisci bianco, rosso, bollicino? Guarda, sai che mi piace tutto, dipende dalla stagione, dal cibo, dal momento, non so dire.